Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con questa vicenda che per fortuna si è conclusa positivamente ma ha tenuto tante persone con il fiato sospeso prima fra tutte i genitori di questo bambino di 11 anni che era scomparso dalle 15 di ieri da casa e non aveva più dato sue notizie poi è stato ritrovato Sono state ore di grande apprezzione per un minorenne, un undicenne che si era allontanato da casa alle 15 di ieri e non aveva più fatto rientro è stato ritrovato dalle forze dell'ordine intorno all'ora di pranzo nel centro di Arezzo Il ragazzo residente in Valdichiana si era allontanato da casa nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio e non aveva più fatto rientro Dopo l'allarme dei familiari erano state attivate le ricerche, l'undicenne aveva con sé un cellulare la prima pista seguita dagli inquirenti è stata l'ultima cella agganciata dal telefono, campo di Marte, dietro la stazione ferroviaria di Arezzo poi per ore nessuna traccia Le ricerche coordinate dalla prefettura di Arezzo sono proseguite con squadre in borghese per evitare di spaventare il ragazzo Pare non si sia mai allontanato dal centro di Arezzo ed è proprio lì infatti che intorno alle 13.30 è stato ritrovato Sta bene ed è stato subito riconsegnato ai familiari Era stata la mamma a lanciare un vero e proprio tam-tam sui social network con tanto di foto per aiutare le ricerche poi diffusa anche dalla prefettura di Arezzo il post infatti era stato condiviso da decine di persone ore di ansia e di tanta paura che si sono per fortuna concluse con un lieto fine A 90 anni sul trattore è rimasto vittima di un incidente nelle campagne di Marciano della Chiana è accaduto questa mattina poco prima delle 7 in località San Giovanni dei Mori L'uomo mentre si trovava a bordo appunto di un trattore nella sua azienda agricola per cause ancora in corso di accertamento sarebbe stato sbalzato dal veicolo riportando poi un trauma toracico da schiacciamento Sul posto sono intervenute le ambulanze della pubblica assistenza di Foiano della Chiana un'automedica dall'ospedale della Fratta e l'elisoccorso Pegaso il novantenne è stato trasportato in codice giallo alle scotte di Siena e un quarantenne invece è rimasto ferito nell'incidente che è avvenuto questa notte intorno alle 4 del mattino in autosole al chilometro 355 in corsia nord per la perdita del controllo proprio appunto del veicolo L'uomo originario di Napoli si trovava appunto al volante della sua auto ed è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale della Gruccia e dunque in Valdarno Sono stati i carabinieri di Sansepolcro a individuare e arrestare una banda di ladri che avevano messo a segno diversi colpi nei supermercati Utilizzavano borse schermate grazie alle quali riuscivano a passare inosservati dai dispositivi antitaccheggio dopo aver fatto razzia di costosi profumi ma sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri di Sansepolcro in manette due uomini georgiani provenienti da Napoli I due sono stati notati dai militari mentre entravano in una profumeria qui dopo aver nascosto diverse confezioni di profumi all'interno di una busta di cartone erano usciti senza passare dalle casse I carabinieri li hanno così seguiti sino all'auto e a quel punto li hanno fermati e perquisiti Sono stati trovati in possesso di sette confezioni di profumi per un valore di oltre 1000 euro Trovate anche attrezzature da scasso ed altre buste schermate addosso ai fermati poi denaro contante e un coltello a serramanico Per i due sono scattate così le manette ma non si tratta di un episodio isolato Da inizio 2003 i militari hanno infatti già operato 5 arresti e 37 denunce per questo tipo di reati Supermercati e centri commerciali della Val Tiberina restano un bersaglio perfetto per i malviventi che dopo aver messo a segno il colpo possono dileguarsi dagli svincoli della I-45 non coperta dai controlli Il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo ha dato il suo personale saluto assieme a tutti i dirigenti e funzionari della Questura al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo il colonnello Adriano Lovito ricevuto proprio presso la Questura di Arezzo prossimo a lasciare la nostra città per andare a ricoprire un importante incarico nella capitale E adesso apriamo una lunga pagina dedicata al Consiglio Comunale di oggi che si è aperto ad Arezzo con il ricordo del sindaco Aldo Ducci in occasione proprio della seduta odierna ricorreva il centenario della sua nascita il 23 luglio appunto del 1923 Donato Caporale ha ricordato il profilo umano del sindaco e la sua biografia politica e antifascista la riconoscenza è invece la parola che ha voluto reiterare Marco Donati ma venendo alle pratiche appunto che hanno riguardato questa infuocata dobbiamo usare questo termine seduta del Consiglio Comunale partiamo dall'argomento diciamo che ha fatto più scalpore ovvero il parcheggio auto richiesto dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in centro storico ci dice tutto Chiara Sadotti qui prima c'era un posto disabili con targa di una persona che adesso è deceduta al suo posto in piazza del Praticino a pochi passi da piazza grande adesso c'è uno stallo per auto riservato al comune di Arezzo a chiedere così spiegazioni è stato nuovamente il Partito Democratico con un'interrogazione in Consiglio Comunale noi oggi siamo tornati su questo argomento chiedendo quali erano questi fini istituzionali e più che altro chiedendo se è possibile che nel comune di Arezzo nascano dei posti riservati all'amministrazione comunale senza nessun atto pubblico ci arrivano segnalazioni del tenore che questa macchina privata che abbiamo scoperto quindi essere del sindaco occupa questo posto anche in orario serale e notturno a rispondere all'interrogazione è stato lo stesso primo cittadino il posto di piazza del Praticino l'ho chiesto io l'ho chiesto io e l'ho chiesto con una motivazione precisa e lo uso talvolta come tutti gli altri posti messi a disposizione per gli amministratori per un motivo ben preciso il sindaco ha funzioni di rappresentanza come tutti sapete che sono funzioni istituzionali queste funzioni di rappresentanza si svolgono paradossalmente molto più durante i fine settimana che non durante la settimana per lasciare per quanto possibile liberi gli autisti durante i fine settimana e i dopo cena perché anche questi fanno parte spesso delle occasioni istituzionali nelle quali io mi devo recare nei posti ho deciso di usare la mia macchina senza autista e ho chiesto all'ufficio traffico mi mettete un posto in più rispetto a quelli che già ci sono e se me lo mettete vicino a dove risiedo forse anche meglio per questo è nato quel posto c'era la possibilità di metterlo senza togliere praticamente nulla a nessun altro e talvolta lo utilizzo lo utilizzo per lasciarci la macchina che poi uso durante i fine settimana o nei dopo cena o quando utilizzo la macchina ecco da dove nasce, perché nasce e attenzione, non è vero che non ci sono i segni dell'amministrazione c'è un permesso che io lascio sempre sul cruscotto perché è quello che identifica quell'auto come in uso a un amministratore in quel momento Un altro argomento caldo di questa seduta del Consiglio Comunale sono stati i migranti e ovviamente la loro accoglienza il sindaco di Arezzo e il vice sindaco Lucia Tanti hanno manifestato in una nota il piano appoggio alla prefettura di Arezzo che ricorderete aveva convocato tutti i sindaci qualche giorno fa proprio presso la prefettura di Arezzo e tutti i soggetti anche del terzo settore perché ovviamente l'aumento dell'arrivo dei migranti in Italia determinava appunto questa emergenza il prefetto aveva chiesto di trovare altre strutture altrimenti non si sarebbe potuta concretizzare quella accoglienza diffusa che appunto tutti si auspicano oggetto del contendere è proprio una manifestazione di interesse da parte della Fraternita dei Laici con una struttura che si trova nel territorio aretino appunto ad ospitare 14 migranti scelta fortemente contestata in questo caso dalla Lega è stato egiziano Andreani proprio in Consiglio Comunale a ricordare che nella scorsa consigliatura la maggioranza aveva fatto sì che questa antica istituzione smettesse di occuparsi dei migranti e tornasse alla sua tradizionale missione chi ha dato l'input appunto chiede egiziano Andreani non è venuto meno in questo modo l'accordo politico sancito nel precedente mandato tanti eghinelli invece in questo comunicato in questa lunga nota arrivata in redazione nel tardo pomeriggio si sono complimentati con la Fraternita e hanno detto che insomma sarà una situazione assolutamente di emergenza altro caso che è stato sollevato che è arrivato in Consiglio Comunale quello degli odori molesti come sapete ormai lamentati da tanti cittadini soprattutto della periferia di Arezzo il sindaco Alessandro Ghinelli ha risposto alle varie interrogazioni della minoranza in particolar modo PD e Scelgo Arezzo dicendo non è soltanto una responsabilità dell'impianto di AISA in questo caso c'è il tema della quantità di rifiuti in arrivo appunto all'impianto di San Zeno al quale giungono 900 tonnellate ha detto il sindaco di rifiuti organici alla settimana l'origine è sicuramente aretina precisa Ghinelli di tutta la sua provincia per oltre il 50% appunto di questo quantitativo ma la restante parte proviene dalla provincia di Siena in quanto attualmente ci sono problemi impiantistici da risolvere il sindaco Ghinelli ha poi annunciato che proprio su questo scottante tema ci sarà a breve un incontro con il prefetto di Arezzo cambiamo argomento e parliamo di sanità perché il nuovo centro di simulazione medico avanzata è stato presentato proprio questa mattina presso l'ospedale San Donato di Arezzo siamo soddisfatti ha detto il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Massimo Mandò il centro è un fiore all'occhiello e punto di riferimento per tutta la ASL sud-est è posto nei locali della biblioteca e si presenta completamente rinnovato sia dal punto di vista architettonico che tecnologico il centro ospita molteplici corsi principalmente sulle tecniche di rianimazione di base e avanzata e ha formato già più di 800 dipendenti scomparsa come sapete nelle scorse ore la cantante Scinedocon era all'età di 56 anni quindi indubbiamente una scomparsa prematura a ricordarla ai nostri microfoni il patron di Arezzo Wave Mauro Valenti perché appunto la cantante era passata anche dal palco di Arezzo Wave era il 2006 quando Scinedoconor con la sua voce incantò lo stadio di Arezzo con la pancione sali infatti sul palco dell'Arezzo Wave Love Festival oggi il patron della manifestazione ricorda commosso la cantautrice irlandese scomparsa a 56 anni lei suonò il 12 di luglio un mercoledì era molto contenta molto tranquilla anche perché era in fase di maternità lei come vi ricorderete forse se vedete i video aveva una pancia già bella in vista di suo figlio creò semplicemente lei accompagnata da un chitarrista suo amico creò un'atmosfera assolutamente unica perché con la sua voce zitti tutto lo stadio la fama mondiale arriva nel 1990 con la celebre Nothing Compares to You Nothing Compares to You un ritratto difficile e tormentato quello di Scinedoconor scomparsa dopo anni di lotta contro tanti problemi di natura mentale poco dopo la morte del figlio nel 2022 l'artista aveva affidato ai social parole di profonda disperazione le ultime parole invece su Twitter che risalgono allo scorso giugno con un video della preghiera Oponopono un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione e il perdone interiore la musica di Scined penso che possa farla andare avanti viva per tante persone un omaggio invece a Raffaella Carrà nell'estate a Retina in Fortezza vediamo Mamma è questo il momento vai colpo di pulmine in arrivo accidenti a quella sera quando lui mi disse ciao e mi chiese vuoi ballare un po' con me le note dei brani più famosi ed amati della grande Raffaella Carrà hanno fatto ballare ed emozionare la fortezza di Arezzo Raffaella omaggio alla Carrà è un tributo alla donna e all'artista indimenticabile icona per molte generazioni che attraverso le sue canzoni ha insegnato bellezza, eleganza coraggio, ironia e soprattutto libertà ho pensato che appunto non fosse possibile imitarla in qualche modo quindi ci sono due attori una delle quali sono io poi c'è Gabriele che portiamo avanti una storia un racconto e quello che succede sul palco è proprio uno spettacolo vero e proprio che era quello che faceva Raffaella in televisione quindi ci sarà qualcuno che guarda la televisione e quello che vedono gli spettatori è lo spettacolo televisivo ad indossare il caschetto biondo Beatrice Baldaccini una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano accompagnata da sei ballerini e performer e da una band di cinque musicisti non è un'imitazione perché è inimitabile non è niente di tutto ciò ma noi veramente richiamiamo quello che secondo noi e secondo anche tutti è lei cioè la libertà di potersi esprimere nel meglio dei modi nel migliore dei modi quindi libertà divertimento noi ci divertiamo un sacco quando siamo in scena e credo che questo sia veramente il messaggio anche fondamentale di dire delle cose serie in maniera divertente e penso che sia veramente il segreto Siamo alla pagina sportiva il primo servizio è con Emiliano Pattarello che ha parlato al termine dell'amichevole contro il Cosenza parliamo ovviamente di Arezzo Calcio vediamo No, penso che comunque giocare faccia a faccia bene dai e oltre che allenarsi tutti i giorni poi confrontarsi con realtà così è sempre bello penso che sia andato anche abbastanza bene stiamo bene sono pesanti però penso che sia normalissimo quindi continuiamo a lavorare ora vedremo quando inizierà il campionato dovevamo arrivare pronti c'è poco da dire però stiamo lavorando bene al bello personale sono contentissimo ho fatto un passo indietro l'anno scorso a venire qui per un progetto che comunque è andato a buon fine ora siamo qui spero che sia un'annata positiva per me personalmente per tutta la squadra e per la società penso che è tanti anni che lo sento ora sono un po' stanco e voglio togliere questo ma quindi lavorerò per farlo e ovviamente anche a livello tecnico tattico c'è sempre da migliorare questo è poco ma sicuro e penso che il passo più importante sia a livello mentale questo è quello che penso io siamo sì siamo rimasti in 14 mi sembra il gruppo è rimasto l'anno scorso ci conosciamo bene ora sappiamo anche comunque come giocare cosa vuole il mister anche i ragazzi nuovi che sono arrivati sono tutti bravissimi giocatori e bravissimi ragazzi quindi speriamo di amalgamarci subito al più fretta possibile e iniziamo bene no io per rispetto perché lui è più grande glielo ho chiesto se volesse però mi ha detto che suo figlio gli aveva chiesto un altro numero quindi penso di tenerla io no con Pippo ha un bellissimo rapporto penso che comunque da un giocatore così devo prendere anche insegnamento su determinate cose sarà una sana competizione diciamo l'Arezzo Calcio Femminile invece ha raggiunto l'accordo con la calciatrice Marianna D'Alessandro per il rinnovo dell'accordo con la formazione Amaranto dunque fino a giugno 2024 il difensore Mancino classe 1999 nella scorsa stagione ha disputato 11 partite prima di infortunarsi poi al legamento crociato finendo prima del tempo la stagione calcistica un nuovo ingresso anche nelle fila Amaranto dell'Amen Basketball Club Servizi che ha ingaggiato Andrea Zocca della Pallacanestro Vicenza a formazione di Serie B il nuovo arrivo ha giocato due finali nazionali giovanili con il Petrarca Padova classe 2003 nello scorso campionato la sua migliore prestazione è arrivata contro la Virtus Padova dove ha realizzato 14 punti ho scelto Arezzo ha detto Zocca perché ho parlato con il coach evangelisti che mi ha dato fin da subito una fiducia incredibile dalle sue parole mi sono sentito molto carico e questo mi ha fatto particolarmente piacere mi ha proposto anche un ruolo molto importante e quindi ha detto ancora il giocatore sarà per me un'annata di crescita è tutto per questa edizione del nostro telegiornale noi vi lasciamo con le repliche degli spettacoli del Pol Barone grazie per l'ascolta arrivederci grazie per l'ascolta